Io credo che la legislazione speciale italiana, ancora prima sul terrorismo e poi sulla mafia, abbia permesso a questo Paese di vincere vere e proprie emergenze. E io credo che sul 41 bis il dibattito che dovremmo fare è sì un dibattito storico, ma è un dibattito che dovrebbe renderci orgogliosi della politica. Perché, vedete, è stata la politica a sconfiggere la mafia. Non è vero, come ci hanno raccontato per trent'anni, che la politica era schiava della mafia. Certo, ci saranno state responsabilità di singoli, ma la politica con il ministro Martino Azzoli, che costruisce l'aula bunker per Giovanni Falcone quando egli gli chiede di fare il più grande processo della storia penale del Paese, è la politica che ha vinto in quel passaggio. E quando taluni magistrati e correnti giudiziari attaccano il giudice Falcone, è il ministro della Repubblica Martelli che lo chiama a Roma, dandogli la possibilità di essere in prima linea nel combattere la mafia. E quando Falcone viene ucciso dalla mafia, in quel momento lì, è lì che nasce il 41 bis per tentare di distruggere la mafia. Cosa che sta avvenendo alla faccia di tutti quelli che ci raccontano che ci sono state più o meno fantasiose trattative, che vengono smentite dalla Cassazione e che permettono a qualche ex magistrato di fare la carriera e di entrare in questo Parlamento, ma che non corrispondono alla realtà dei fatti. È stata la politica con i propri rappresentanti a fare la legislazione speciale e questo va spiegato a chi ancora continua a non capirlo. Si vuole una bella faccia tosta come quella del senatore Renzi per qualificare il 41 bis come una vittoria della politica. Solo chi non conosce la storia di questo Paese, mi faccia parlare il mio dubbio. Senatore Scarpinato, non si è avvertito da qui nessun disturbo. Senatore Gasparri, la prego di rivolgersi alla Presidenza e attraverso la Presidenza se vuole agli altri colleghi. Magari usando, se ritiene, un linguaggio consono. Grazie. Spero che potrò recuperare questi secondi. Il senatore Renzi ignora che la legge che introdusse il 41 bis è una legge sporca di sangue, perché è una legge che fu introdotta esclusivamente con il sangue versato da Paolo Borsellino e dai cinque agenti della Scorta, trucidati nella strage di Via D'Amelio e della indignazione popolare che mi seguì, che costrinse un Parlamento riottoso che non voleva approvare il 41 bis definendo forcaiolo e giustizialisti che lo proponevano, approvare il 41 bis. Quindi non fu una vittoria della politica, ma fu una vittoria dello Stato, della società civile e di tutti quanti si resano in quel momento conto che è una legge sporca di sangue e non si può definire una vittoria della politica. Signor Presidente, grazie della parola. Il senatore Scarpinato, intervengo ovviamente solo per fatto personale come prevede il regolamento, ha iniziato il suo discorso dandomi della faccia tosta perché si è sentito chiamato in causa dal mio passaggio sui magistrati che in nome di una fantomatica trattativa smentita dalla sentenza di Corte di Cassazione hanno costruito una carriera in magistratura prima e in politica poi. Vorrei che restasse agli atti del verbale che effettivamente mi riferivo esattamente a Roberto Scarpinato, al quale vorrei ricordare che prima di venire a dare faccia tosta ai colleghi dovrebbe spiegare non solo le sue strane frequentazioni con il Dottor Palamara, ma anche il suo atteggiamento del tutto folle nei confronti delle istituzioni di questo Paese, come sa il Presidente della Repubblica America, Giorgio Napolitano. Per me Scarpinato si deve vergognare. Grazie. Renzi per me è un personaggio incredibile perché ora quando siamo usciti ha detto uno che la Cassazione ha annullato la sentenza aggiatativa, ma tutti gli italiani sanno che la Cassazione non si è ancora pronunziata, ma quindi non riesco a capire che cosa passa per la testa. E per di più non sa che la Corte d'Appello ha confermato che la trattativa c'è stata e che ci sono state gravissime deviazioni istituzionali. Secondo, ha detto che io dovrei parlare delle mie frequentazioni con Palamara, dunque c'è stata un'integgine enorme in cui sono state divulgate e sono conosciute le chat in cui migliaia di magistrati, centinaia di magistrati hanno parlato con Palamara e non c'è una sola in cui a Palamara parliamo. Non l'ho mai incontrato e le uniche volte che Palamara parla con altri di me ne parla malissimo e che mi rende orgoglioso. Terza cosa, dice che io dovrei ricordarmi di D'Ambrosio, cioè il consigliere giudicico di Napoletano, che è stato intercettato mentre parlava con l'ex ministro Mancino nell'ampito delle indagini sulla trattativa. Renzi non sa, io non entro nel merito di questa intercettazione, ma non sa che quando sono state disposte queste intercettazioni io ero in un altro ufficio, la Procura Gianni Palermo e quindi non le ho disposte io. Allora quando un antagonista politico ti critica va bene, ma se dice delle cose che non stanno in cielo e in terra io arresto così. Dico ma dove sono finito? Quali saranno le conseguenze politiche? Al di là delle emozioni di censura, delle richieste di dimissioni, le conseguenze politiche di tutto quello che è successo? Guardi, io valuto le conseguenze istituzionali. Abbiamo un ministro della giustizia che è un colabrodo, con un ministro che non rimuove il responsabile della fuoco di notizie e con Dalmasso Ledovedo che continua a dire, vabbè ma chiunque vuole chiedermi queste notizie io gliele do, quindi un irresponsabile. Quindi prima che c'è un problema politico c'è un problema istituzionale che diventa politico perché può essere successo un fatto grave ma se un ministro interviene subito va bene, ma quando questo ministro non interviene e fa orecchio di mercante diventa un problema politico e quindi deve valutare se darà in dimissione. Bene, la ringrazio senatore Scarpinato. Lei è stato molto, diciamo, duro nei confronti di Nordio. Cosa ha chiesto? Beh, non sono stato duro, sono stato tecnico. Cioè il ministro Nordio ha più volte dichiarato che c'erano vergognose fughe di notizie, secondo lui, da uffici giudiziari che riguardavano le intercettazioni giudiziarie e aveva detto che sarebbe intervenuto in modo inflessibile col pugno di ferro facendo ispezioni per promuovere i procedimenti disciplinari. Bene, ora si è verificato una gravissima fuga di notizie che è venuta dall'ufficio che dirige lui e in particolare dal sottosegretario con delle caldap dal masso delle vedove, il quale ha bellamente dichiarato alla stampa che è venuto a conoscenza per il suo nuovo istituzione di notizie segrete rilevantissime e cioè che ci sarebbero capi mafia che stanno cercando di strumentalizzare il caso cospito per eliminare il 41 bis e ci sarebbero dei rapporti personali e invece di trasmettere queste notizie segrete alla Procura nazionale di mafia e poi alla Procura Repubblica per fare indagini rilevanti anche con intercettazione, le confida un suo coinquilino, quindi rompendo la segretezza del ruolo, Donzelli il quale per più poi le rivela tutta la nazione in aula compromettendo definitivamente le indagini per motivi di lotta politica accusando di contiguità con la mafia e con il terrorismo alcuni esponenti del PD. Ora un ministro che non è in grado di garantire la segretezza di queste notizie e che a causa di questa Fuglia di Notizie ha compromesso l'indagine della magistratura e che non ha la forza di chiedere al responsabile manifesto di questa Fuglia di Notizie di rassegnare le dimissioni e che viene in Parlamento con la coda tra le gambe farfugliando delle spiegazioni che sono incomprensibili e sono e un ministro che non ha l'autorevolezza politica e la forza politica per svolgere il suo ruolo e quindi dovrebbe valutare se sia il caso di dare le dimissioni.